buongiorno a tutti bentornati a una nuova puntata del te artistico buongiorno a tutti ciao angi ciao sara oggi pensavo di parlare di un pittore requieto ravaggio michelangelo merisi sì esattamente il nostro merisi preferito perché michelangelo no ce n'è un altro che ci piace quindi di merisi uno ce n'era di michelangelo ce n'erano due sono entrambi disattattati non chiamate vostro figlio michelangelo perché sennò mi viene una forza della natura porta male buone probabilità che sia requieto e irrascibile immaginate durante l'adolescenza cosa può diventare un figliolo così insomma da murare in camera il nostro pittore maledietto nasce a milano non a caravaggio nel 1571 lo sappiamo perché è stato scoperto il suo certificato di battesimo datato 30 settembre quindi possiamo supporre che sia nato il 29 esatto presente la canzone di mogol battisti 29 settembre che è nata anche della formula 3 ecco se dovete ricordare un bel giorno nata di nascita di michelangelo merisi uno spunto per chi è ancora o a scuola mnemonico altra chicca caravaggio ave i suoi genitori si chiamavano neanche a farla apposta fermo e lucia vi ricorda niente vai sarà di là tu allora presenti premessi sposi di manzoni ecco la prima scrittura dei promessi sposi il protagonista maschile non si chiamava renzo o lorenzo ma si chiamava fermo e lucia è sempre rimasta lucia non ti muove sta lì sta fermo buono buono e per chiudere questa parabola perché è una parabola il tutto contornato da una peste sì letteralmente esatto del 1576 77 scoppia la peste anche qui vi ricorda niente dei promessi sposi il momento dagli all'untore in cui il poveretto di di renzo viene preso per un untore della peste che poveretto non c'entrava nulla secondo me veramente il manzoni si è studiato la vita del michelangelo che se no non si spiega o tutti a milano si chiamavano fermo e lucia allora i genitori caravaggio tornano ma neanche farla apposta né a dirlo a caravaggio nel bergamasco qui ai miei purtroppo il padre e il nonno paterno muoiono del morbo e lasciano la famiglia con problemi economici madre single vedova potete immaginarvi non proprio erosi alla cosa e non era neanche figlio unico fra l'altro michelangelo aveva anche dei fratelli quindi esatto quindi all'età di 13 anni viene mandato a bottega da simone e tarzano e rimane a bottega per i prossimi quattro anni in questo periodo lui studia apparente sia la scuola lombarda che la scuola veneta c'è da dire una piccola cosa molto probabilmente era arrivata la recessione perché michelangelo allora c'era la crisi esatto michelangelo buonarroti prendeva 24 scudi d'oro mensilmente durante l'apprendistato il merisi per tutti i quattro anni 40 scudi e non li ha presi di meno lui li ha presi sua madre proprio periodo di recessione forte e sarà che ti ricordi perché tu magari sei più esperta anche perché ti piace di più il disegno rispetto a me che preferisco di più il colore niente a togliere a nessuno dei due sono gusti personali la differenza tra la scuola fiorentina la scuola veneta allora sì diciamo che la scuola fiorentina è un po lo stile che più viene in mente quando pensiamo al rinascimento italiano per intenderci fiorentini erano botticelli era leonardo erano altri insomma che che antepongono la linea al colore quindi la scuola fiorentina ha questa caratteristica in cui prevale la linea il disegno sul colore la scuola veneta invece è l'esatto opposto cioè il colore prevale sulla linea infatti si chiamerà anche pittura tonale perché diciamo che sarà un po il tono su tono nel senso che il tono dei colori sarà la parte più importante e chi meglio di tiziano esprime la pittura veneta infatti tiziano guarda caso è uno dei insomma degli esempi migliori per caravaggio stesso anche perché l'ultimo periodo della sua vita tiziano ha fatto delle cose di chiaroscuri che sono fuori di testa sì infatti tiziano durante fine della sua vita in età matura ha questi toni molto pruniti e poi soprattutto adesso prenderla un po con le pinze questa cosa diciamo che era un po un impressionista in un certo senso perché anche la sua pittura non tendeva più alla perfezione della pennellata pulita anzi era una pittura molto più istintiva addirittura pare che usasse anche le dita quindi a questa pittura che che molto più simile in un certo senso all'impressionismo che non al rinascimento come lo intendiamo noi di solito in cui si cerca appunto l'aulicità e la perfezione e quindi caravaggio che fa da una botta proprio il lato b al rinascimento quindi la sua forma aulica e soprattutto è come se fosse una tempesta una rivoluzione all'interno del manierismo stesso quindi qui stiamo parlando del fine manierismo quindi caravaggio da un nuovo modo esprime un nuovo modo totalmente contrapposto al manierismo papalista una rivoluzione del colore della luminosità sì anche se alla fine è un po relativa vengono indicati da roberto lunghi come pre ravageschi il poppa e il borgognone infatti avviarono la rivoluzione della luminosità e soprattutto al ritorno al naturalismo quindi all'abbandono degli schemi rigidi proposti quindi dal rinascimento e fine manierismo infatti c'è da dire cosa che siamo in lombardia ancora che in lombardia arrivano sia le influenze venete ma anche le influenze fiamminghe e i fiamminghi come sappiamo erano maestri nel rendere gli effetti luminosità e rendere gli effetti delle superfici e le cose sia superfici metalliche ma non solo quindi effettivamente questi artisti lombardi impararono la lezione e riuscirono già a rendere gli effetti di luce e anche questi questi chiaroscuri diciamo che caravaggio rende questi chiaroscuri epici in un certo senso ne fa un po il suo cavallo di battaglia epico bellissima come parola grazie caravaggio dopo questa parentesi possiamo dire che di opere sue di questo periodo non se ne conoscono ricompare verso il 1592 a roma a roma lo troviamo a bottega da giuseppe cesari in questo periodo lui dipinge le nature morte ora le natura morta era considerata un'arte minore gli specialisti di questo settore erano fiamminghi come mi dà già sarà il dito alzato la so la so allora sì effettivamente le nature morte erano importanti e anche se erano considerate un po un genere minore perché genere più importante era il genere di storia in ogni caso la natura morta perché era importante dobbiamo pensare al periodo storico siamo nel post contro riforma cosa vuol dire riforma religiose e poi c'è stata la contro riforma fiamminghi per lo più venivano da dare per lo più calviniste e quindi usavano le nature morte per dare un messaggio spesso morale come la vanitas quindi la questione insomma della caducità della vita e della vanità in genere a volte anche dei significati più religiosi infatti essendo la regione calvinista una religione iconoclasta usavano le simbologie dei fiori e dei vegetali per portare anche messaggi più profondi anche religiosi ecco perché ce ne erano tante perché ne circolavano tante e a questo proposito in questo periodo sono eh alcune opere di caravaggio perché dopo caravaggio dopo otto mesi lascia la bottega si mette da sé come dice il baglioni non il cantante un altro un biografo di questo periodo sono quindi il ragazzo morso da ramarro e il ragazzo con canestra di frutta probabilmente queste opere sono anche autoritratti quindi che lui faceva eh usando degli specchi e usando quindi giocando sulle tonalità sull'atmosfera e la luminosità di questo periodo sono anche due opere sue molto importanti quindi che ce lo fanno conoscere tutti noi abbiamo visto che sono quindi i bari e la buonaventura ravaggio ha questa caratteristica lui non ha paura del brutto infatti nella roma eh così manierista fine manierista eh che si affaccia al barocco che sono due eh correnti tipiche del post contro riforma ehm lui non cerca tanto il bello quanto il vero quindi andrà a ritrarre anche quelle persone che si scostano tanto da l'idea di nobiltà come appunto i bari come le prostitute come ragazzi di vita e insomma e anche questo è un po' la sua eh grande eh rivoluzione ecco perché Caravaggio a Roma eh girava per i quartieri malfamati e poi riporterà nei suoi dipinti essenzialmente e di questo periodo dopo lui riesce a trovare un committente un mecenate nel cardinal del monte lo introduce nei buoni nei circoli buoni quelli dell'élite della Roma benestante e gli arrivano le prime importanti commissioni pubbliche quindi Caravaggio abbandona le piccole tele per concentrarsi su stile più monumentali. Allora Angie ti ricordi quando è stata la prima commissione pubblica del Merisi? La so la so la so 1599-1600 per la cappella Contarelli che si trova a Roma nella chiesa di San Luigi dei Francesi brava per la felicità della Sara perché se dico non dico dei Francesi o San Luigi Mimena. Ma la chiesa è quella non è cattiveria. Quindi sì erano queste opere dedicate a San Matteo. Esattamente però ne parleremo la prossima volta perché c'è una chicca riguardante queste opere. Per adesso grazie dell'attenzione e attivideci al prossimo video sempre su Caravaggio. Il tè artistico che prossimamente verrà ribattezzato lo spritz artistico perché siamo nella stagione estiva ci sta bene. No scherzo. Va bene. Non ci stava. Secondo voi meglio il tè artistico o lo spritz artistico? Lo spritz anche mojito. E qui si vede la differenza fra me e Angela. È per questo che ci troviamo se no ci completiamo bene per questo motivo. Va bene allora a presto e grazie dell'attenzione. Arrivederci. a presto. 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 Grazie a tutti.